Il covid non ferma le esigenze delle persone diversamente abili, ancor più se ad essere interessate sono i bambini. In seguito alla notizia del taglio delle ore di assistenza domiciliare ad alcuni nuclei familiari con persone affette da disabilità grave nella nostra provincia, ho ritenuto opportuno presentare una mia interrogazione al presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, per cercare di risolvere al più presto tale problematica. Così il consigliere regionale di Italia Viva, Tommaso Pellegrino. Le famiglie continua Pellegrino che hanno bisogno di aiuto necessitano di 100 ore settimanali di assistenza sanitaria con infermieri che vengono inviati dall'Asla Salerno. Conosco bene la sensibilità su questo tema del presidente De Luca, dell'assessore Fortini e del direttore generale dell'Asla di Salerno Mario Iervolino, il quale dopo averlo sentito mi ha confermato il suo impegno.